Mi pare che le donne del PDL siano molto disorientati, sono abituati ad essere disorientati dal loro capo, ma questa ultima uscita di Berlusconi credo che veramente li abbia buttati davvero a terra, non sapevano più cosa dire. Il giorno prima dice che Monti è il futuro leader del centrodestra e 24 ore dopo fa una marcia indietro clamorosa, forse con una frase che a me ha dato l'impressione, non so tu Umberto che impressione hai avuto, ma che gli è un po' scappata, probabilmente non era prevista nel brogliaccio del suo discorso, ma a un certo punto non ce l'ha fatta più, si vede anche dall'espressione e parte con la corrente forse da staccare al governo Monti nei prossimi giorni. Certo che per il centrodestra io credo che non vorrei essere un parlamentare del PDL, deve essere una vita infernale. Beh però il tassametro corre come si dice a Roma nel frattempo, ed è un bel tassametro. No, sono rimasti sconcertati sicuramente i parlamentari, ma sono rimasti sconcertati secondo me anche tantissimi elettori di centrodestra, perché noi abbiamo titolato sulla prima del secolo fallo di reazione di Berlusconi e quello è condannato e quindi il giorno prima come ricordavi tu video addirittura, video per annunciare che Monti deve andare avanti, che il governo sta facendo bene, che è quello che ci vuole al paese, con opportune correzioni, poi la condanna e il giorno dopo immediatamente come si dice a Roma gli salta la brocca e inizia a dire cose completamente opposte. Quindi è chiaro che c'è una concatenazione fra i due eventi e diciamola tutta una cosa che forse neanche in Congo o nel Congo di fine ottocento poteva succedere, una tale commistione di interessi privati con interessi pubblici. È chiaro che nella lotta politica si possono subire torti, si possono subire torti dalla magistratura, ma per chi è stato presidente del Consiglio comunque un profilo istituzionale, quindi di distinzione tra le vicende private e giudiziarie e la propria veste politico-istituzionale va comunque conservata come ombre. Prova a metterti nei panni dei parlamentari liguri, cagliamola sempre nel nostro piccolo territorio, sono veramente, già erano disorientati prima e probabilmente anche preoccupati da una legge elettorale che potrebbe in qualche maniera mettere molto in difficoltà la loro ripresentazione, a parte il discorso di Biasotti che poi vorrei fare, visto che voi avete fatto un pezzo proprio con delle indiscrezioni su Biasotti e sul suo futuro, ma questa ultima uscita li ha completamente messi, pensavo a Grillo che è sempre stato uno che ha sostenuto Monti, Passera eccetera eccetera, si è trovato con le spalle completamente scoperte. Ma io sì, è vero quello che dici. Il Biasotti è quello più legato a Passera, in qualche maniera. Sì, io credo, io credo senz'altro, io credo però che i parlamentari di Forza Italia prima e del PDL dopo si siano abituati a queste oscillazioni humorali e politiche del loro leader, per cui in qualche modo, insomma, ricorderai che qualche, non tanto tempo fa, ormai sarà un mese, un mese e mezzo, quando Berlusconi disse per la prima volta che non si sarebbe candidato, finalmente tutti i parlamentari iniziarono un po' a uscire anche i liquidi, allo scoperto, sì, siamo con Alfano, avevano lo spazio. Esattamente, poi nel giro di una settimana Berlusconi dice no, mi ricandido, immediatamente tutti, sì, è giusto che Berlusconi si ricandidi, quindi non so se meriti nemmeno di parlarne in termini politici ormai di questo, questa sta diventando sempre più una vicenda umana e una vicenda anche pateticamente umana, questa del PDL. Io penso che siamo al tramonto, al disfacimento. Il risultato è un problema perché in un sistema tendenzialmente bipolare, invece, una destra, un centrodestra, serio e moderno, serve come il pane. Insomma, la concorrenza serve sempre. L'abbiamo più volte detto, la Liguria è la prova di questo, cioè la Liguria-Genova, l'assenza di concorrenza indebolisce progressivamente, cristallizza, ossifica e rende meno efficiente anche il centrosinistra che sta... Con il risultato che poi la Regione non riesce mai più da tempo ad esprimere dei leader di livello nazionale, per esempio. Però parliamo un attimo di Biasotti, voi avete dato questa notizia di una specie di riconsacrazione di Biasotti, sarebbe in qualche maniera tranquillo, forte del fatto che in fondo ha un suo bacino elettorale una sua lista, rappresentata in Regione da due consiglieri, rappresentata in Consiglio comunale, quindi ha una sua forza. Ma tu credi ancora che esista questa forza? Ma io questo non lo so, non te lo so dire. Mi sembra chiaro che nella situazione di spappolamento di un partito che è sempre stato caratterizzato dalla presenza forte di un leader e poi dal fatto che in pochissimi contavano e portavano dei voti loro. C'era Scaiola, c'era la Sicilia nelle sue varie articolazioni, c'era poco altro. È chiaro che chi adesso conserva anche un minimo di consenso può aspirare nel disfacimento generale, può aspirare ad avere un posto. Non so se poi finirà davvero così, insomma. Quel che è certo è che, ripeto, mi sembra che si tratti ormai più di una vicenda personale quasi che non di politica. Qualcuno già ipotizza che ci possa essere, per esempio, nei prossimi giorni, una sorta di rifiuto di un consistente numero di parlamentari a seguire il capo. Io di 25 anni, guarda, dal 94 sono 18 anni, in questi 18 anni di fronde, colpi di Stato, mosse anti-Berlusconi, addirittura qualcuno anni e anni fa si ossinava a riporre anche la sinistra, a riporre fiducia in un Gianni Letta che si distingueva da Berlusconi. Si sono sempre rivelate speranze illusorie. Ora è vero che la situazione è tale per cui uno strappo potrebbe esserci, se ci sarà io credo che lo provocherà Berlusconi, più che non i deputati. Prima sarà... Come, insomma, sei quegli uomini che, come dire, lasciano dovunque segnali del passaggio dell'amante... Un tradimento per far sì che la moglie dica basta. Esattamente. Ecco, quindi però uno strappo cosa potrebbe essere, per esempio, un Berlusconi che dice basta togliamo l'appoggio a Monti? Secondo me no. Non questo. Secondo me questo no perché sarebbe ulteriormente suicida per il PDL e in quel caso lì davvero metterebbe molti deputati nelle condizioni di poter dire no, questo noi non lo facciamo. diciamo, non ci stiamo. Quindi favorirebbe questa massa di deputati che lui sente sempre più estranei, diciamo, sente sempre più estranei alla sua vicenda. Lui dopo la sentenza si è sentito, si sta sentendo abbandonato dai suoi, diciamo, che non lo seguono più come prima. Quindi io credo più che altro che lui, ma lo scrivono i giornali, l'abbiamo scritto anche noi variamente, che lui si è molto tentato dall'appoggiare una nuova forza sua, appoggiare liste civiche o similciviche sue, incentrate su alcuni personaggi che comunque su alcuni pass d'aranche gli rimangono fedeli, alcuni oppositori del governo Monti per ragioni ideologiche come una parte di esponenti politici che provengono da alleanza nazionale, la russa che hanno quella componente sociale che comunque fa sì che una politica rigorosa, una politica di rigore venga vista come una politica antipopolare. Una cosa che a me, forse è una mia impressione, forse sbaglio, ma è che qua, nel nostro territorio, a Genova e in Liguria, tutti questi grossi temi politici, bisogna vedere quanto interessano alla gente, ma insomma ci sono, vengano attutiti in qualche maniera, cioè non lo so qua, il grande tema della crisi del PDL, ce ne freghiamo un pochino, ma io non lo senti dire, non senti dire in giro, ah certo che non abbiamo più nessuno, idem il PD, onestamente, del PD si parla solo in funzione di Renzi. Ma ce n'è qualche, c'è qualche motivo, diciamo, io distinguerei le due cose, c'è un motivo generale, e va bene, il motivo generale è che forse, sì ma al di là del disinteresse, forse la gente ha anche cose più concrete in questo momento a cui pensare, perché il 17 dicembre scade il paese, l'Imu, sarà il caos più totale, e quindi uno si preoccupa più di quello. Sul versante del PD, il PD tende lui, secondo me, a sopire un po'. Proprio per Renzi questo, diciamo la verità, il teatro strapieno della sera ha creato qualche problema, secondo me, ai dirigenti, tanto che sembra che la visita di Bersani possa essere stata in qualche maniera rinviata anche per evitare dei confronti. Questo è assai possibile, io resto convinto del fatto che Renzi sia il sintomo e non la malattia, ma che la malattia è il malato e il PD, è il Partito Democratico, che non riesce ad esprimere una linea politica sua, autonoma, e che su tante questioni ne possiamo parlare, l'ultimissima è questa della vicenda dell'alleanza con l'Italia dei Valori, che parliamo nella seconda parte, perché è corposa. Preferisce, come dire, più tacere che non esporre. Certo che è la sfiga del partito del PD, è questa, perché nel momento in cui c'è una debolezza totale dall'altra parte, lui ha questi problemi, potrebbe vincere tranquillamente. In parte se li crea. In parte se li crea. Ci fermiamo un attimo.